Bella raga, io sono Zedcastle, vi do il benvenuto su Lega Nerd, oggi in occasione dell'uscita del primo trailer ufficiale vi porto a fare un viaggio, un viaggio per scoprire e conoscere gli Eterni, ovvero i protagonisti del nuovo film dell'MCU che vedremo a novembre in tutte le sale cinematografiche, BOOM! E insomma è arrivato anche il primo trailer ufficiale degli Eterni, film della fase 4 dell'MCU, diretto da Chloe Zhao, stessa regista di Nomadland, bellissimo, e particolarmente anche atteso dal sottoscritto, perché nella storia degli Eterni si nasconde un pezzo importantissimo della storia di Marvel e del suo universo narrativo, con anche importantissimi aspetti che finora sono solo stati accennati nell'MCU, ma che potrebbero trovare uno sviluppo interessantissimo per quello che è il piano narrativo cosmico della casa delle idee. Procediamo per gravi, chi sono gli Eterni? Ebbene, si deve partire a monte da una delle più misteriose e potenti specie dell'universo Marvel, ovvero i Celestiali. Queste immense entità simili a dei cosmici sono più volte intervenute nel corso della storia dell'universo, proprio nel cosmo, per dare il là allo sviluppo della vita intelligente. Dopo aver contribuito alla nascita dell'Homo Sapiens Sapiens attraverso processi genetici, prendendo alcune centinaia di individui, questi Celestiali creano due specie, ovvero diametralmente opposte tra l'altro, ovvero gli Eterni, veri e propri Dei sulla Terra, immortali, con il compito di guidare ed ispirare l'umanità, senza tuttavia intervenire direttamente per modificarne il fatto, quindi concedendo quello che è il classico libero arbitrio, e i Devianti, una specie dotata di incredibile ingegno, un patrimonio genetico assolutamente unico nel suo genere, ma di allineamento, almeno in superficie, diametralmente opposto a quello degli Eterni. Gli Eterni nel corso della storia dell'uomo hanno contribuito a portare conoscenze, progresso, venendo poi riconosciuti nell'epoca come le grandi divinità, Mercurio, Icaro, Atena, Zeus, Gilgamesh e altri. Di fatto, gli Eterni sono immortali, dotati di incredibili poteri, forza, rigenerazione, capacità di volare, e sono essenzialmente divisi in due categorie, ovvero i Moventi, quelli che hanno capacità fisiche particolari, molto importanti e telecinetiche, e i Plasmanti, ovvero quelli che sono in grado di manipolare la realtà, la materia e a volte anche la coscienza degli uomini stessi. Icaris, ad esempio, il cui alter ego umano è Ike Harris, è dotato della capacità di volare, può emettere raggi dagli occhi, è quasi un Superman. Mark Carey, ovvero Maccari, riprende un po' il concetto del Dio Mercurio, con la sua super velocità sia fisica che intellettiva. Cersei riprende l'idea, è una Plasmanti, riprende l'idea della strega Circe, tesitrice di illusioni. Tena è chiaramente la rappresentazione della Dea Atena, quindi una movente, per poi arrivare a Zuras, che è il leader degli Eterni, padre di Tena, è chiaramente vicino alla figura di Zeus, oppure Ajak, che è l'unico, o meglio il primo, a poter comunicare con i Celestiali. Insieme a poi a Druig, plasmante, manipolatore, Gilgamesh, il dimenticato, che addirittura viene recluso per i suoi continui interventi nei confronti dell'umanità, che a un certo punto lo hanno reso molto vicino alla figura di Ercole. Per quanto riguarda invece la società dei Devianti, è uno dei loro massimi rappresentanti, che è Cro, che vedremo tra l'altro nel film, è una società progredita con un ritmo di riproduzione forsennato, e in pratica ha vissuto questa specie con lo scopo di rivelarsi e conquistare la Terra, che tra l'altro i Devianti credono che gli spetti per diritto, proprio come veri eredi del trono della Terra. Perché? Perché ogni tot di cicli cosmici, una nuova schiera di Celestiali fa ritorno sulla Terra per verificare lo stato di progresso e avanzamento del genere umano, e quindi anche di altre popolazioni extraterrestri in realtà. E stabilisce come far ricominciare il tutto. Se gli Eterni avranno influito positivamente, il potere cosmico spetterà a loro. Se l'umanità invece fosse avvolta nelle fiamme del caos, della distruzione e del conflitto, avrebbero prevalsi i Devianti, ereditando quindi la Terra e il potere. Nel 1976 Jack Kirby, creatore appunto degli Eterni, presi ispirazione un po' da tutte quelle leggende che narrano degli interventi extraterrestri nell'antichità per lo sviluppo dell'umanità, e sulla scia della sua precedente esperienza in DC Comics, né il quarto mondo e i nuovi dei, e quindi anche Darkseid, che avete imparato a conoscere recentemente al cinema con la Justice League, crea un affresco importante che coniuga il magnifico delle storie di supereroi, quelle più moderne diciamo, a quello che è il mito e il fascino immortale delle leggende, e fa una cosa veramente unica, solo Jack Kirby poteva riuscirci. Graficamente il re Kirby riesce a collegarsi anche con gli stili a quelle che sono proprio anche le culture antiche, sumere, precolombiane, egizie, mostrando un nuovo tipo di personaggio. Se gli Avengers sono quasi divinità moderne agli occhi delle persone normali, come potrebbero essere viste creature così magnifiche come gli Eterni dalle popolazioni antiche? E ne nasce veramente un qualcosa di estremamente profondo, estremamente ispirante. Poi nel 2006, in realtà, gli Eterni sono stati anche ripresi da Neil Gaiman con i disegni di John Romita Jr., in una sorta di reboot decisamente ben riuscito, tra l'altro, che però si discosta un pochino dall'atmosfera e da mito e leggenda dell'originale per consegnarci una storia con tratti più marcatamente supereroistici, in cui gli Eterni, vittime di una grande illusione, sono rimasti dormienti e inconsapevoli della propria natura, fino a che uno di loro, Sprite, che è un plasmante costretto eternamente nel corpo di un bambino e quindi eternamente frustrato per la sua condizione di inferiorità rispetto ai suoi simili, nel frattempo, tra l'altro, diventato una star della televisione e questo potrebbe essere molto simile a quello che vedremo nel film, ordisce un piano per risvegliare un celestiale sulla Terra, riaprendo, tra l'altro, un conflitto con i devianti e praticamente quasi portando all'estinzione dell'umanità. Una storia che coinvolgerà anche Iron Man, Hank Pym e altri eroi Marvel, peraltro nel periodo immediatamente successivo a quello della Civil War. Ecco, io avrei immaginato che proprio l'opera di Neil Gaiman e John Romito Jr. avrebbe fatto da base per il film che vedremo a novembre nelle sale, con i dormienti eterni che si risvegliano poco a poco per impedire una sorta di ritorno dei celestiali e quindi un'apocalisse sulla Terra, mostrando nel frattempo la storia che li ha visti interagire con l'umanità nei tempi antichi. Potrebbe non essere così, ragazzi. Innanzitutto cominciamo anche un po' ad analizzare quali sono le differenze con i fumetti. Come cambia questo film? Beh, allora, partendo dall'inizio, da quanto si può vedere nel trailer, sembra che gli eterni ci vengano un po' mostrati come viaggiatori che giungono sulla Terra e non come creature primigenie come nei comics. Il loro intervento poi, si vede nel trailer, sarà fondamentale per far compiere all'umanità dei salti evolutivi, agricoltura, le arti, eccetera. Quindi qui diciamo che c'è un fulcro abbastanza simile. Ma allora, come mai gli eterni non sono intervenuti per fermare, che ne so, Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale o più semplicemente nell'MCU contro Loki o contro Thanos? Avrei immaginato la loro condizione di non consapevolezza, ovvero di divinità dormienti inserite nel tessuto sociale del mondo, ma nella scena in cui vediamo Maccari nella sua camera delle collezioni, chiamiamola così, che nel frattempo è diventato tra l'altro un personaggio di sesso femminile, poi vedremo anche le differenze, si nota che possiede oggetti proveniti da tutte le epoche. C'è la chimera di Arezzo, c'è lo standardo dei legionari romani, passando per il DVD di Paura e Delirio a Las Vegas, c'è addirittura un visore, un VR della PlayStation, ok? Addirittura nella scena in cui vediamo Sprite, interpretato dalla giovanissima Liam McHugh, nell'aereo, mentre canta, vediamo a un certo punto su una parete quello che sembra essere lo scudo originale di Captain America, quello proprio degli esordi. Questo suggerirebbe la loro piena consapevolezza nel corso dei secoli, quindi il loro mancato intervento dipenderebbe dalla regola di non interferire con il destino degli umani. Tra l'altro, altra scena, mentre esplode il vulcano nel trailer, sembra proprio che Sprite sia addolorata per non poter far nulla a riguardo, però si noterà invece che Makkari, a un certo punto, con la sua super velocità interverrà per portare in salvo qualcuno da un disastro. Quindi probabilmente così tanto non interferenti non lo sono. Altre differenze, Kingo, che nei fumetti era un guerriero nipponico, un samurai, con una lama particolare creata addirittura da Pastos, suo compagno negli Eterni, qui diventa invece una star di Bollywood con il volto di Kumail Nunjani. Anche Ajak, che al volto della sempre bellissima Salma Hayek, ha cambiato sesso, mentre Icaris, Tena, Cersei e Pastos sembrano coerenti con le loro versioni originali su carta. Nessuna traccia di Zuras, invece, un Eterno che potrebbe non essere nemmeno accennato, anche per non dover spiegare alcuni difficili legami di parentela, visto che è il padre di Tena e quindi il processo di procreazione degli Eterni. Rimane confermata la relazione sentimentale che lega Icaris, Richard Madden, con Cersei, Gemma Chan, e rimane invece tutto da scoprire con vigimento di Dane Whitman, ovvero Black Knight, con il volto di Keith Harrington, King of the North, e di come lo stesso sia legato a Cersei, insomma, che sembra tra l'altro di intuire dal trailer. Sembra proprio, invece, che la grande minaccia sia l'arrivo della quarta schiera di Celestiali sulla Terra e che gli Eterni saranno chiamati a riunirsi, pur con le divergenze del caso, visto che Druig e Sprite, anche in questo caso, sembrano non raccontarla proprio giusta, per sventare la minaccia che rischia di portare ad un'apocalisse sul pianeta. Un paio di note importanti. Torniamo a Thanos. Thanos, nei fumetti, è figlio di un Eterno, tra i primi colonizzatori di Titano, solo che, a differenza di suo fratello Eros, è stato toccato dalla sindrome deviante che gli ha conferito quel colore viola e il mento rugoso come gli Skrull, eccetera. Nell'MCU questa cosa finora non è mai stata menzionata, e a questo punto dubito che sarà tirata in mezzo perché sarebbe veramente troppo un casino. Inoltre, i Celestiali noi li abbiamo già visti nei Guardiani della Galassia, quando i nostri eroi si recano a Nowhere, che di fatto è la testa di un antico Celestiale caduto, e anche in un altro frame in cui ne compare apparentemente un altro nel copo del collezionista, nei vari schermi del collezionista, che è uno degli antichi, interpretato da Benissimo del Toro. La confusione vera arriva con Ego, il pianeta vivente, padre di Star-Lord, che a un certo punto afferma di essere un Celestiale. Ecco, di fatto nei fumetti questo non è assolutamente vero. Ego è un pianeta senziente, una sorta di entità cosmica risvegliata. Se vogliamo più vicina a Galactus come entità che non ai Celestiali, che sono dei veri e propri architetti, forse addirittura degli ingegneri genetici dell'universo. Vedremo come si comporteranno a riguardo e se cercheranno di collegare le cose, rischiosetto, o di fare una parziale retcon. Questo comunque è per darvi una bella panoramica su quello che probabilmente vedremo al cinema appunto con Gli Eterni. La domanda ora la faccio a voi. Vi è piaciuto questo trailer? Un po' singolare anche per quello che è, diciamo, l'abitudine che abbiamo ormai nei confronti dei prodotti dell'MCU, specie di quelli più recenti. Sicuramente molto interessante, sicuramente il tocco di Chloe Zhao si vede già da questi panorami estesi, molto molto belli, ma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e di quali piccole chicchette vi siete accorti magari durante il trailer, visto che ce ne sono di easter egg. Sembrerebbe esserci anche addirittura un armigero che combatte contro Tena, si allena contro Tena, che ha uno scudo che è praticamente identico a quello di Capitan America, ok? Mi raccomando, allora, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sostenete il nostro lavoro e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima, ci vediamo al cinema. Ciao!